Oggi 11 novembre ricorre il 14esimo anniversario della tragedia di Viale Giotto che costò la vita a 67 persone, travolte dal crollo del palazzo in cui vivevano. Diversi gli eventi organizzati e patrocinati dall'amministrazione comunale di Foggia e dai parenti delle vittime per celebrarne la memoria. Dal 6 novembre scorso sono partite le iniziative che proseguono ovviamente anche in questa triste giornata del ricordo. Questa mattina nel cimitero foggiano la visita al memoriale da parte delle istituzioni cittadine e la deposizione della corona di fiori della città di Foggia. Nel pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore si svolgerà invece la messa solenne organizzata dai parenti delle vittime. Il programma delle celebrazioni sarà chiuso dall'iniziativa per non dimenticare del Foggia Calcio organizzata allo stadio Pino Zaccheria in occasione dell'incontro con il Sorrento. La prima circoscrizione, Arpi Croci Nord, vuole affiancare due drammatiche ricorrenze per la città, gli anniversari delle tragedie di Viale Giotto e Via delle Frasche, accaduta il 20 novembre del 2004 che provocò la morte di otto persone e la distruzione di diversi edifici a causa di una fuga di gas. Oggi nella sala consigliare della circoscrizione alle 17 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime dei due tragici eventi. Il Sacro Rito sarà ufficiato dal cappellano della Polizia di Stato di Foggia, Don Osvaldo Castiglione. Successivamente ci si recherà presso il Giardino della Memoria, dove sorge il monumento dedicato alle vittime di Viale Giotto per la tradizionale preghiera alla deposizione di un omaggio floreale. Inoltre nella circoscrizione è stata allestita e potrà essere visitata per tutto il mese di novembre una esposizione di gigantografie che riportano alla mente alcuni tragici momenti delle operazioni di soccorso.